nel momento in cui è stata sospesa l'attività scolastica dato il bisogno di comunicare bambini nella nostra vicinanza i team delle morote morim dell'infanzia primaria si sono impegnati immediatamente per trovare soluzioni nuove creative di condivisione sia a livello relazionale molto importante che didattico abbiamo mantenuto un legame costante attraverso materiale didattico messaggi di saluto canzoni video link didattici di audiolibri approfondimenti di progetti iniziati a scuola con l'avvicinarsi a festa i purim abbiamo sentito il bisogno di creare materiale didattico che potesse adattarsi alla condivisione attraverso computer e cellulari come sappiamo su internet non è possibile trovare materiale didattico in italiano per le materie ebraiche adatto specificatamente alle singole realtà di scuola dell'infanzia e primaria e quindi per la scuola dell'infanzia abbiamo oltre a idee di lavori manuali per produrre rascianime a teatrini ricette video di osnea man filmati recitati e morote che abbiamo mandato via whatsapp abbiamo iniziato a lavorare su un progetto di audiolibro della storia della megila tester il progetto si è mano mano arricchito aggiungendo le illustrazioni oltre la musica di sottofondo la voce narrante si è trasformato in un meraviglioso libro animato che dopo un'intensa settimana di lavoro è stato mandato a tutte le famiglie per la scuola primaria dopo l'approvazione di tutto il collegio docente unito online si è deciso di partecipare i team dei docenti di ogni classe con i loro bambini ad un incontro virtuale in diretta il giorno di purim per ricordare le mitzvot specifiche per condividere l'atmosfera della festa così è stato rivedersi tutti insieme travestiti e travestite anche le morote e salutarsi è stata un'esperienza emozionante e significativa sia per gli adulti che per i bambini e ha saputo mantenere vivo l'aspetto relazionale dopo il collegamento eravamo tutti infatti molto più arricchiti